Siamo tutti insieme di uno spazio che poi frequentate voi, quindi se è pulito è più bello per voi. E quindi io vi chiedo, sapete come facevano i moschettieri? Tutti per uno, uno per tutti? Uno per tutti, tutti per uno. Alziamo le nostre pinze spade in aria. Chi ha vinto? Uno, due, tre. Tu hai indovinato chi ha vinto? No. Avete vinto? Tutti!